questo è un babka ragazzi un dolce lievitato di origini della polonia e anche di altri paesi slavi ora vi spiego come si prepara questi sono gli ingredienti che dobbiamo utilizzare per realizzare l'impasto l'impasto che servirà per portare in tavola il babka io vi consiglio di prepararne anche una doppia razione visto è considerato che va via a ruba per farcire il babka potete utilizzare la crema spalmabile che preferite oppure fate così come ho fatto io ho preso del burro caffè solubile cacao amaro e dello zucchero preparato questa cremina che ho spalmato sopra l'impasto del babka e poi visto che avevo anche la crema spalmabile di mandorle da poco preparata l'ho aggiunta crepi la varizia ragazzi tanta dolcezza ma neanche tanto dolce perché l'impasto come avete visto negli ingredienti base c'è pochissimo zucchero arrotoliamo tutto l'impasto e poi lo stringiamo bene avvolgiamo nella pellicola lasciamo riposare anche in congelatore una mezz'oretta per far sì che si rassodi e quando andremo a tagliarlo non succederà come ho combinato io qua che si è un po' spatassato e quindi la treccia è venuta bruttina ma vi confesso che l'impasto era perfetto il babka era davvero buono comunque una mezz'oretta in congelatore ci sta bene poi lo mettiamo nello stampo da plum cake rivestito di carta forno una pennellata con del latte e lasciamo livitare ancora un'oretta poi in forno a 170 gradi per 30 35 40 minuti dovete controllare voi la cottura del vostro forno ed è il babka un dolce strepitosamente buono 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 avete capito come si prepara oppure no no ve lo devo ancora spiegare ma ragazzi intanto prepariamolo insieme seguitemi